Posso guardare nel tuo pannolino? Vi presento Topotto. Topotto è molto curioso. Smonta sempre i suoi giochi per vedere cosa c'è dentro. Curiosa in tutti i buchi che incontra. Dentro le tane, i vasi e le bottiglie. Ficca il naso proprio dappertutto. La curiosità di Topotto non ha limiti. Posso guardare nel tuo pannolino? Chiede all'amico Leprottino. Certo che sì, risponde Leprottino. Lì Topotto trova sette palline di cacca. Poi corre da Betta e le chiede. Posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino? Guarda pure, risponde la capretta. Proprio come pensavo. Tante cacchette scure, esclama Topotto. Ehi Teo, posso dare un'occhiata nel tuo pannolino? Chiede al cane. Sì, risponde Teo divertito dalla strana richiesta. La tua cacca ha una forma deliziosa, amico mio, commenta Topotto. Topotto è sempre più curioso. Chi lo ferma più? Ehi Clara, posso guardare nel tuo pannolino? Chiede alla mucca. Certo che sì, risponde Clara con orgoglio. Non ci posso credere, ride Topotto. È enorme! Psst, fulmine, posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino? Chiede al cavallo. Fai pure, risponde il cavallo. Tre grosse palle rotonde. Complimenti, amico! Alla fine Topotto raggiunge il timido Piggy. Ehi Piggy, vorrei vedere che cosa c'è dentro il tuo pannolino. Posso? Gli chiede. Beh, ok, balbette il maialino. Fantastica! La tua cacca è la migliore, Piggy. Ehi Topotto, ora guardiamo noi nel tuo pannolino, esclamano Clara, Piggy, Leprottino, Teo, Betta e Fulmine. Nessun problema, dice Topotto. Oh, esclamano tutti sorpresi. Il tuo pannolino è vuoto. Com'è possibile? Semplice! Ho imparato a fare la cacca nel vasino, guardate. Il vasino! Vogliamo imparare anche noi. Ci insegni? Certo! Fine